Un caro saluto da Maria Giulianci, il tempo previsto per domenica 2 giugno. Sul nord Italia si è ormai allungato l'anticiclone nordafricano in arrivo dalla Spagna, anticiclone nordafricano che è in estensione anche le regioni del Medio Alto Tirreno e la Sardegna, ma senza portare effetti termici di rilievo. Sulle regioni del Medio Adriatico al sud invece insistono venti più freschi in arrivo da Balcani e sospinti da un doratore o vortici di bassa pressione presente sui Bassi Balcani. Ecco allora il tempo previsto per effetto di questi venti più freschi e ancora isolati, rovesci o temporali nelle ore pomerichiane sui rilievi abruzzesi, molisani, sulla campagna fino a sconfinamenti lungo le coste campane, sui rilievi calabro-lucani. Le temperature saranno in rialzo anche su Toscana, Umbria e Lazio, valori massimi intorno a 28-30 gradi sul Piemonte e sulla ovest della Lombardia, 24-27 gradi su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna, temperature tra 20 e 22 gradi invece sulle regioni del Medio Adriatico al sud, ovviamente mi riferisco ai valori massimi giornalieri. Bene, termino qui, un caro saluto ancora da Maria Giuliaci, vi ricordo di scaricare la nostra app che è senz'altro la più semplice da usare in ambito meteo.